Possiamo solo proiettare, vi devo parlare, vi voglio parlare del controllo di gestione, management control, perché? Perché Anvi ha voluto annoverare fra le sue linee di prodotto, lasciatemi usare questo termine, anche il controllo di gestione, l'ha anticipato prima il Presidente, perché le richieste da parte degli imprenditori sulla parte che adesso è un po' la punta di diamante delle nostre attività, cioè gli indebiti, le cause controlle banche, eccetera, sì sono cose importanti, però le richieste erano anche, ma se io sono arrivato a questa situazione, se tu imprenditore sei arrivato a questa situazione, forse, forse non hai avuto un'attenta gestione della tua azienda da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. Allora con la coda dell'occhio potete guardare e poi ne discutiamo più ampiamente, quindi le richieste degli imprenditori che noi abbiamo percepito erano un po' a 360 gradi, anche perché abbiamo capito che l'imprenditore deve avere un unico interlocutore, non può per ogni singola casistica della sua azienda legale, tributaria, di controllo di gestione, rivolgersi a dei professionisti separatamente, cioè lo può fare, ma è una dispersione di tempo e di danaro, quindi abbiamo capito ormai da parecchio tempo che il presentarsi alle aziende come, lasciatemi dire, un broker che può spaziare a 360 gradi sulle varie problematiche aziendali ci avrebbe dato ragione e così è, perché quando, come anticipava prima, il Presidente facciamo un'analisi dell'azienda e si dice, ma vabbè, ma se sei arrivato ad avere la revoca dei fidi, ad aver accusato il sistema perché hai percepito degli indebiti eccetera, ma come hai curato la tua azienda da un punto di vista di controllo di gestione? Per carità, ogni imprenditore poi su questa cosa qua è difficile da, come dire, trattare, perché l'imprenditore è quello che ci ha messo il denaro, è quello che rischia, quindi la sua azienda la sa condurre, certo, però quando veniamo chiamati e andiamo a fare le analisi in azienda scopriamo che l'imprenditore ha, come diceva il Presidente prima, due interlocutori, ha il commercialista che, come diceva prima, parla al passato e ha il suo apparato commerciale che molto spesso è lui stesso, oppure perché? Perché pensa principalmente alle vendite, deve fare fatturato, poi chiede al commercialista come è andata, guarda l'ultimo numero in basso, no è troppo, è troppo poco, non va bene, cosa abbiamo fatto? Ma tutto quello che sta fra la vendita e il risultato magari non è, magari è, non è sotto controllo. È chiaro che le grosse aziende hanno un apparato di controllo di gestione agguerritissimo, ovviamente se lo possono permettere, le piccole aziende devono un po' fare tutto quanto, il boi all'impicato, la corda, quindi la situazione è quella e puntano su quello che ritengono sia il maggiore valore aggiunto per la loro azienda, cioè vendere e poi capire qual è il risultato. Quindi Anvi ha annoverato fra, io dico sempre le linee di prodotto perché di fatto sono dei servizi, delle consulenze, il controllo di gestione, ma la cosa importante che vogliamo sottolineare è che Anvi non vuole dare delle consulenze fine a se stesse, vuole fare della formazione professionale ai propri associati, quindi vuole mettere in condizioni i propri associati di agire autonomamente sul controllo di gestione. Molto spesso l'imprenditore ha comunque fra i suoi collaboratori qualcuno che gli fa la contabilità generale, l'interfaccia con il commercialista. Questa è la persona che noi individuiamo per fare formazione, per capire come è la situazione di bilancio ma tradotta in termini comprensibili. Il commercialista oltre a parlare al passato e a non dire niente su quello che potrà essere un traguardo del futuro propone, perché lo fa così, il suo bilancio dando il tomo, conto economico, stato patrimoniale, attività, passività, secondo la normativa c'è. Chi ci capisce in quel bilancio? Lui, sicuramente, ci mancherebbe altro, l'imprenditore, sì giustamente qualcuno scuote la testa, io non voglio essere così. Lui ci capisce e dice ma com'è andata, ma qual è la mia situazione o perché mi trovo a questa situazione di cassa così ormai ridotta al lumicino. Facciamo formazione professionale e proviamo a far leggere all'imprenditore i dati in modo comprensibile. in che modo? Trasformiamo il bilancio CE, il bilancio civilistico, in un bilancio gestionale leggibile, ma in due paginette, perché l'imprenditore non ha tempo, non ha voglia, non vuole dedicare risorse per fare un corso sull'interpretazione del bilancio per poi dire vabbè non mi serviva niente, dimmi qual è il risultato. Ecco che si sono creati ormai da tempo delle situazioni che il controller propone al titolare, all'amministratore delegato o comunque al responsabile in modo che si evidenzino quali sono le criticità aziendali. Diceva prima il presidente Luca Bongiovanni che noi forniamo la prima attività di preanalisi, di analisi dell'azienda in modo gratuito. Certo, noi ci richiamo presso l'azienda, se siamo chiamati ovviamente, facciamo un check delle attività, qui sono elencate, esame del contesto aziendale, la valutazione della capacità tecnica di gestione con tutti i sottotitoli, la valutazione del know-how, la valutazione dell'analisi di mercato, clienti, concorrenti, fornitori. La domanda che noi facciamo è l'imprenditore questo. Allora di tutto questo mondo tu sai benissimo che esiste eccetera. La tua azienda ha qualche volta messo la lente di ingrandimento sotto questi aspetti? Sì o no? Conosci, possiamo andare più sotto? Conosci la forza, i punti di forza, i punti di debolezza dei tuoi clienti, i tuoi fornitori hanno il monopolio delle forniture, sei legato mani e piedi, ma soprattutto la valutazione del comparto aziendale è legato alle risorse umane. Sono messe nelle migliori condizioni di operare, la capacità produttiva è satura? Allora questo discorso della capacità produttiva, la saturazione della capacità produttiva è un discorso che, misconosciuto, ma nel momento in cui si porta alla ribalta diventa una cosa affascinante, una cosa che regge praticamente tutto il controllo di gestione. Proviamo a vedere la slide dei principali parametri. l'imprenditore, una volta formato, lasciatemi dire una volta messo nelle condizioni di capire, deve avere 4-5 numeri ben chiari in testa, 4-5 numeri che derivano da un'analisi che qualcuno deve aver fatto prima. Deve avere in tasca la situazione, qui abbiamo messo dei periodi a caso, naturalmente quali sono i periodi che si mettono a raffronto? Un consultivo con un budget. Di che cosa? Dei ricavi, del margine operativo all'orto, del risultato operativo, del risultato antiimposte, questa è la parte economica, del capitale del funzionamento, capitale investito, posizione finanziaria netta e patrimonio. Questi 4-5 numeri l'imprenditore le deve sapere veramente a mena dito, ma deve sapere qual era stato il budget annuo, il budget di periodo e deve soprattutto essere messo in condizioni di capire l'analisi degli scostamenti. Ma se io avevo previsto di fare tanto, perché non l'ho fatto? È un ritardo? Ho perso del tempo? Ci sono delle ridondanze nella mia produzione? Prendo due volte la situazione in mano per riuscire ad arrivare al punto? Quindi sono tutte analisi che noi facciamo, cerchiamo di capire quali sono le criticità, proponiamo delle soluzioni all'imprenditore, ma soprattutto cerchiamo di fare formazione professionale. All'Anvi in quanto associazione ha messo insieme questo pool di professionisti, molto spesso il presidente si chiama Giovani Leoni, appena ha parlato, è Vecchie Volpi, adesso lasciate giudicare voi chi sono Vecchie Volpi e Giovani Leoni, comunque non è sempre la situazione anagrafica che lo impone, però perché? Perché dobbiamo dare all'imprenditore delle risposte concrete subito e capire quali sono le esigenze effettivamente che ha l'imprenditore. Non interessa fare come fanno le grosse aziende di consulenza, fare le analisi, produrre dei fascicoli con grafici, relazioni eccetera che l'imprenditore mette nel cassetto, punto e base, ho speso un sacco di soldi, che cosa ne ho? Mi spiace parlare di queste cose, ma è la realtà dei fatti. Penso che sia arrivato veramente il momento di chiamare le cose con il loro nome, all'imprenditore serve capire, capire subito e avere i mezzi per agire. Vediamo quindi, questi sono i principali parametri che l'imprenditore deve avere sotto controllo. In che modo presentiamo il bilancio all'imprenditore, bilancio costruttivo e bilancio preventivo? Proviamo a vedere il conto economico o direi ancora meglio lo stato patrimoniale. Quindi la situazione patrimoniale che poi genera, la situazione patrimoniale deve essere prodotta non in 25 pagine con legati di bilancio, note integrative e quanta, tutto in una pagina. L'imprenditore deve capire quali sono le sue attività di funzionamento, passività di funzionamento e qual è il suo capitale circolante o capitale investito. Cioè quel numero mi rappresenta i soldi che l'imprenditore, l'azienda ha messo per far girare tutta l'azienda, volevo dire la baracca ma tutta l'azienda. Quindi quelli sono soldi che o l'imprenditore trova con l'autofinanziamento oppure deve mettere lui. Andiamo più sotto. La situazione del capitale fisso, la situazione del capitale investito netto, la situazione dei fondi, la posizione finanziaria in realtà. Pochi numeri chiari. Perché ho insistito molto col discorso della formazione professionale? Perché crediamo molto al fatto della formazione professionale? Perché vogliamo che gli associati si sentano parte dell'associazione, che si sentano sorretti, guidati dall'associazione, che non vedano nell'associazione, chiedo scusa ai giovani leoni, ma l'avvocato che vuole comunque fare per portare avanti il discorso, ma noi dobbiamo garantire all'associato che stiamo facendo quello di cui ha veramente bisogno. Ma il nostro primo compito è quello di fargli capire di che cosa ha veramente bisogno. Quindi questo è uno stato patrimoniale concentrato. Volevo dirvi prima che la formazione professionale, di cui noi vogliamo erogare ai nostri associati le ore, verrà erogata con l'ausilio della società Delta III rappresentata, io la signora che poi vorrei dire qualche cosa, usufruendo laddove sarà possibile dei finanziamenti regionali, europei e quant'altro. La formazione è finanziata, ci sono gli stanziamenti per la formazione professionale delle imprese, degli imprenditori e del professionale? Ci sono i soldi, non è che non ci sono. Dobbiamo solo traguardare le effettive esigenze dell'imprenditore e vedere se si rientra nei parametri del finanziamento, dopodiché erogare la formazione professionale, perché di questo si tratta e mettere l'imprenditore in condizioni di agire autonomamente. Un conto economico, io adesso ho messo qui una cosa veloce, un conto economico fatto in una paginetta sola, quindi l'imprenditore alla fine dispone di tre elementi, di tre pagine di informazioni, a livello consuntivo e a livello preventivo, quindi capire, se andiamo un po' più in su, capire qual è il break even, il punto di pareggio, una cosa importante, la dinamica dei costi, quali sono i miei costi fissi? Lo so quali sono i miei costi fissi? Certo, sono sotto controllo, ma è chiaro qual è la differenza tra costi fissi e costi variabili? È chiaro qual è lo zoccolo duro su cui devi intervenire e pagare tutti gli anni e tutti i mesi? Oppure pensi che alcuni costi siano variabili e viceversa? Questo è un aspetto importante, quindi capire qual è il punto oltre il quale l'imprenditore guadagna e sotto il quale l'imprenditore perde è una cosa importante. Io direi una cosa fondamentale, anche perché la perdita economica, fatta anche in buona parte dagli oneri finanziari di cui faceva prima cenno il Presidente, la perdita economica si riverbera immediatamente sulla liquidità. Se io non ho un risultato economico sotto controllo, se non ho la dinamica dei miei costi sotto controllo, ne risentirò nell'ultimo anello della mia catena sulla situazione finanziaria. Io concluderei il mio intervento, anche perché vorrei veramente lasciare posto ai giovani leoni, dicendo e ripetendo che Anvi ha annoverato fra l'elenco delle sue potenzialità e consulenze che voi vedete nel pieghevole che vi abbiamo dato, ultimamente anche il discorso del controllo di gestione. Il controllo di gestione viene fatto da un pool di professionisti di cui io faccio parte con, ripeto perché è importante, la preanalisi presso l'azienda per capire il grado di autonomia finanziaria, economica, patrimoniale dell'azienda stessa. L'individuazione dei punti di forza e dei punti di divolezza è la proposta di interventi da condividere con l'imprenditore, da far vivere all'imprenditore per poi agire anche, e ripeto, con l'ausilio della formazione professionale però con i finanziamenti pubblici. Nessun imprenditore, soprattutto in questo momento, ha a disposizione delle risorse finanziarie, anche se lo vorrebbe fare, per intraprendere un cammino di formazione professionale sua o dei suoi dipendenti. Certamente abbiamo capito e utilizziamo questo driver per poter fornire questi elementi. Io ho concluso, a questo punto spero di essere stato chiaro, naturalmente se ci sono poi delle domande sulla mia parte, sulla parte che hanno espresso prima il Presidente e l'Avvocato Gossino e su quello di cui parleranno i relatori che verranno adesso, nel dibattito potremo dare tutti i chiarimenti.